Limitazioni e regole precise, ma la partecipazione alle celebrazioni in onore di Maria Nostra Signora dell'Orto non sarà meno viva del solito. Alla vigilia dei tre giorni dedicati ai festeggiamenti a Chiavari il programma è confermato nella sua ossatura tradizionale. E le regole per la partecipazione sono quelle che in queste settimane sono state attuate in tutte le chiese. L'appello che facciamo, ma il desiderio che abbiamo anzitutto noi sacerdoti è quello di vivere pur nella fatica, nella difficoltà, nella limitazione un tempo di grazia datoci anche dalla liturgia e da quello che vivremo. Quindi il desiderio è anzitutto questo, che queste feste alimentino la fede sull'esempio di Maria nonostante tutto quello che ci può essere perché il centro poi è la nostra fede e quello che vivremo. Il primo luglio l'offerta dei fiori a Maria sarà organizzata e vissuta secondo le regole del distanziamento. Dalle 9 alle 12, un orario continuato, i bambini potranno entrare liberamente in cattedrale, offrire i propri fiori alla Madonna e venire benedetti. Quindi c'è questa modalità che permette una scorrevolezza da parte delle persone a questo momento. Le celebrazioni eucaristiche in cattedrale sono confermate con i posti a sedere distanziati fra loro. Ci sarà la possibilità, qualora i posti fossero esauriti in cattedrale, di poter seguire la celebrazione anche all'isterno tramite l'amplificazione che c'è. Speriamo anche di poter mettere alcune sedie sul prono, ovviamente dotate di mascherina e di tanta pazienza anche per quanto riguarda il momento della comunione e gli altri momenti che si vivono in maniera un po' differente. Per partecipare alla Messa del 3 luglio, che inizierà in piazza Nostra Signora dell'Orto alle 21 e sarà presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, occorrerà indossare correttamente la propria mascherina e presentarsi ai varchi che saranno preparati. In corrispondenza delle strade ci saranno dei varchi presidiati dove verrà chiesta alla gente di potersi igienizzare le mani e verrà chiesto l'uso corretto della mascherina. La piazza potrà tenere un migliaio di posti, quindi raccomandiamo alla gente, i varchi saranno aperti dalle 19.30 di venire con anticipo e di prendere posto. Al momento dell'esaurimento dei posti poi la piazza sarà chiusa, la gente prenderà posto a sedere. Ogni informazione verrà fornita dai volontari, non ci si potrà spostare dal proprio posto. La comunione sarà portata ai fedeli da sacerdoti e ministri. Anche per l'uscita bisognerà attendere le indicazioni. Chiediamo alla gente di venire in anticipo e di avere pazienza nell'ascoltare con attenzione tutte le indicazioni che verranno date, senza dimenticare che l'immagine di Maria che portiamo solitamente in processione sarà fuori, proprio per la venerazione, già dalle ore 17 e custodita dagli ortolani.